Signore e signori e tutti voi all'ascolto, buongiorno! Oggi è il 24 di marzo del 2024, siamo a Lovoleto per la camminata di Lovoleto e Ventivoglio anche se Lovoleto sta sotto Granarolo, mi hanno detto dalla regia Ciao a tutti, buongiorno! Abbiamo dovuto parcheggiare... Cioè, lo so che c'è il parcheggio qua, di solito approntato però non fanno più passare, perché è già pieno Non so se si vedono, probabilmente no, però forse un pochino sì Ci sono le montagne con la neve, cioè assolutamente incredibile Sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, viva! Sette, sei, cinque, quattro, tre, due, 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 due Il nostro ragazzo è venuto a tutti i nostri ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'alternativa va dritto, la Maxi invece per di qua. Buongiorno. 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 Siamo pronti per affrontare il gran premio della montagna con questa salita molto impegnativa. Scusate, è il sole che mi dà la testa. Scusate, è il sole che mi dà la testa. Scusate, è il sole che mi dà la testa. Siamo a Ristoro. Con te, acqua e biscotti. Scusate, è il sole che mi dà la testa. Scusate, è il sole che mi dà la testa. E siamo arrivati. Vi metto il riepilogo di Comotte in 3, 2, 1. Perfetto, grazie mille. Ristoro con una torta molto interessante, fette biscottate, crostini, biscotti, salatini, un sacco di cosine buone. Recensione della camminata, con cui a fianco vorrei anche far notare il ristoro Avis Pianoro Comunale con il salamino piccante. Piccantissimo, buono, bravo. Bravo, ma trovo pure che voi. Dopo la cremina ci penso io. Allora, recensione della camminata. Percorso? Percorso molto bellino. Ci sono stati anche due gran premi della montagna perché abbiamo scavallato l'autostrada. È un po' difficoltoso. Ristori? Ristori, c'era ristoro a metà buono con i biscottini. C'è ristoro qua ottimo che ci sono anche un sacco di cosine, insomma le cosine salate. C'era un tè particolare, non so come era questo. E' fatto con l'acqua dei fossi. Non c'erano i percorsi difficoltosi. Erano quelli che insegnavano e che confondevano le idee. Che gente simpatica! Anche il premio, vorrei far notare, un chilo di pasta. Ecco, quello è un bel premio. Esatto, perché non è mezzo chilo, è un chilo intero, quindi buono anche questo. Io speravo che il mio piedino fosse guarito e invece non proprio. Alla prossima. Ignoriamo questa cosa. Ho un'altra camminata per guarire. Non c'è problema. Vi vedo ragazzi. Buona. Ci vediamo alla prossima. Gli dai due bacini. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.